Siamo giunti alla quattordicesima edizione della Sagra della Frittella ornanese a Ornano Grande di Colledara. Ringraziamo innanzitutto il comune di Colledara che ci permette con il patrocinio di realizzare questo evento. Sono quattro giorni dedicati alla Frittella che come veniva fatta dalle nostre nonne, ai nostri genitori, riportiamo così in piazza questo prodotto. Da quest'anno abbiamo inserito due prodotti, il formaggio fritto con una pastella molto particolare e anche i fiori di zucca. Vi invito ad assaggiarle perché è la prima volta che le proponiamo. Partiamo da giovedì con degli Underlights, dei ragazzi di Teramo che fanno musica pop contemporanea. Il venerdì con la cover di Vasco Rossi, i Com, che è una delle cover più titolata, riconosciuta anche dallo stesso Vasco Rossi. Sabato Star Liga, una cover di Liga Bue, abbiamo deciso di mettere questi due cantautori un po' i più importanti italiani. Domenica un gruppo di ballo di piazza, così per accontentare un po' tutte le fascità della piazza.